Ho iniziato a lavorare con la Pepper Clay intorno al 2003-2004 e sono riuscita a realizzare la prima famiglia di bottiglie. Sono proprio dei gruppi di persone. Mi immagino sempre che ci siano gli adulti, i bambini, gli anziani un po' più piegati, un po' più curvi, un po' più provati dalla vita. È un lavoro sempre in rapporto con la terra, queste cose naturali, quindi non posso pretendere di dominarle completamente e neanche mi interessa. Partendo da un colore più forte, predominante e poi attorno ci aggiungevo molti altri colori che dovevano stare in relazione con questo colore deciso. Quando siamo stati in visita in Francia per conoscere tutta la storia di Madame Plicot e ho immaginato subito la connessione tra le mie bottiglie e le loro bottiglie, tra il mio amore per la natura e il loro contatto veramente forte con il territorio, con la vigna, con il sole. Mi sono ispirata principalmente al loro giallo iconico che rappresenta il sole e quindi ho iniziato ad aggiungere naturalmente i colori del cielo, quindi tutte le tonalità di blu, del mare e poi non poteva mancare il verde. Quando creo le mie cose sento che sono una parte di me.